Ciao, sono Zane di Turbola.it. In questo video voglio raccontarti perché personalmente non investo in ICO e quando le persone mi chiedono quale sia la mia posizione e quale sia il mio consiglio, indico esplicitamente di stare lontano dalle ICO e di rivolgersi alle criptovalute più quotate. In questo breve video voglio raccontarti il mio punto di vista partendo da un nuovo articolo che è stato pubblicato da Bloomberg pochi giorni fa. Ma partiamo dall'inizio. Le ICO, ad esempio, se guardiamo un sito come icostats.com ci dicono appunto che sono il principale metodo per guadagnare il più possibile dalle criptovalute e in effetti se guardiamo i numeri di questi progetti sono veramente svalorativi. Ad esempio il ritorno sull'investimento per un progetto come NXT è appunto del 560.000%. Cioè vuol dire che avendo investito anche solo un euro durante la fase di ICO avremo grosso modo un mezzo milioncino di euro a disposizione oggi e sono numeri veramente impressionanti che fanno golo a tutti. Anche IOTA, quindi altri progetti più conosciuti, lo stesso Ethereum, NIO, anche ARC e molti altri progetti molto buoni sono partiti con una fase di ICO e chi ha avuto la lungimiranza e la fortuna di entrarvi al momento opportuno è oggi probabilmente miliardario. Però ritengo sia molto importante non farsi abbagliare da questi numeri e considerare anche l'altro aspetto della medaglia. In particolare possiamo già farci un'idea ordinando per ritorno sull'investimento al contrario che alcuni progetti hanno già perso moltissimo del loro valore iniziale. A confermarci che cosa sta succedendo è questo articolo appunto apparso su Bloomberg che ha dato il via a questo mio video. In particolare il titolo è che la metà delle ICO muore, quindi i progetti delle startup che vi stanno dietro muoiono entro quattro mesi dopo la fine della vendita dei token, quindi dopo la fine della vendita della ICO. L'articolo di Bloomberg cita in particolare uno studio condotto da un college di Boston nel quale un professore e un associato hanno analizzato i dati sulle ICO più recenti e hanno scoperto che solo il 44,2% delle startup che sta dietro alle ICO, sopravvive 120 giorni dalla fine della fase di ICO, quindi campa per più di due mesi, meno della metà. Quindi dobbiamo essere estremamente fortunati per appunto capitalizzare su questo fenomeno. In particolare i due studiosi dicono nella loro pubblicazione che il ritorno su quanto investito nelle ICO sta scemando molto rapidamente. In particolare negli ultimi mesi hanno assistito a un calo del 4% ogni singolo mese su quanto investito e vi sono appunto la maggior parte dei progetti che finiscono a gambe all'aria, cioè che non sopravvivono appunto per oltre i, abbiamo detto, 4 mesi, quindi un periodo di tempo molto breve. Per chi insiste comunque nel voler tentare questa strada, questo articolo secondo me e lo studio condotto appunto dai due studiosi del college di Boston contiene alcune indicazioni. In particolare lo studio nota che riassume che la maggior parte dei progetti che comunque parte come ICO non supera l'andamento delle altre criptovalute più quotate già dopo sei mesi, quindi chi ha deciso di investire farebbe bene a liberarsene rapidamente. In particolare loro dicono che per essere al massimo sicuri l'idea migliore è di vendere quanto acquistato in fase di ICO non appena la moneta raggiunge l'exchange, quindi raggiunge l'exchange il quale possiamo effettivamente venderla ma comunque non trattenerla per più di alcuni mesi perché diventa veramente molto pericoloso soprattutto se ci avviciniamo, mano a mano che ci avviciniamo appunto la soglia fatidica dei sei mesi. Ovviamente questo si verifica anche perché siamo in un mercato ribassista, le cose potrebbero cambiare in caso, come ci aspettiamo, come ho già detto nei miei video dei giorni scorsi, la fase di crescita di Bitcoin e di tutto il settore delle criptovalute dovesse continuare a riprendersi verso l'alto, le cose dovrebbero migliorare però teniamo sempre presente che le ICO sono diciamo il settore più rischioso in assoluto all'interno di quello già iper rischioso e iper speculativo di tutte le criptovalute. In ogni modo qualsiasi sia la nostra posizione, la nostra strategia per investire in ICO, vi raccomando di controllare sempre questo sito che si chiama icocheck.io nel quale ci sono una serie di utenti che fanno le pulci e vanno a spennare effettivamente e guardare bene cosa c'è sotto tutti i progetti che si presentano sul mercato tramite questa forma di finanziamento. Ad esempio ho scoperto un progetto GoNetwork che era molto citato, sono emersi appunto tramite questo studio dei ragazzi di icocheck.io alcune bandierine rosse veramente preoccupanti, in particolare uno dei fondatori è stato colto su Telegram a parlare con l'altro suo collega nel quale diceva che la cosa più importante erano i soldi e di non preoccuparsi così tanto perché finita questa ICO ne avrebbero fatta un'altra. Ovviamente il team ha risposto che era stato craccato l'account però ecco questi questi ragazzi fanno un ottimo lavoro perché appunto fanno le pulci un pochino a tutti questi progetti. Ovviamente tutte le loro scoperte sono in inglese quindi aiutatevi con Google Translate o con un servizio di traduzione se non lo conoscete. Funziona sia in positivo che in negativo ad esempio Nex che è un ottimo progetto ormai è stato ampiamente accertato si tratta di un progetto legato al team di NIO nel quale la stessa NIO Foundation quindi un progetto molto stabile sta investendo pesantemente anche i ragazzi appunto di ICO Check hanno confermato la legittimità. Lo fanno un pochino per tutti i progetti che si propongono come ICO e risultano più interessanti. Quindi di nuovo ICOCheck.io ve lo raccomando fortissimamente in caso decidiate di partire con un investimento in ICO. Bene da zanediturbola.it è tutto come al solito se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile vi chiedo di fare mi piace cliccando sul pollice verso l'alto qui sotto come sempre per me è molto molto importante quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!